Cosa mi portate prima? Neutri? Cosa mi portate? Siamo pronti, abbiamo il gatto numero 30, il Sacro di Birmania, il gatto numero 114, il Menkun, il gatto numero 207, il Siamese, il gatto numero 165, il Norvegese e il gatto numero 230, lo Sphinx. Al quinto posto il gatto numero 165, il Norvegese. Presentiamo. Ciao, io sono Marco, lei è Serena, lei è Supreme Premier, Nimue in Bohemian Rhapsody e DSM. Complimenti, tutti i titoli national winner, tutto pieno di... Paramento Nimue di Michela Berlotto e Cristiano Mercolani e vive con noi a Rovento. Padrona di casa, i premi chi li dà? Dove va? È andata via. Ve li do io. Allora, best of best, best in show. Ok. Voilà. Al quarto posto il gatto numero 230, lo Sphinx. Allora, io sono Massimini Magda, vengo da Trento, lui è Mystic Naked Q-Cion-Cion e proviene appunto dall'allevamento mio di Trento. Complimenti. Al terzo posto il gatto numero 114, il Menkun. Parla il consorte. Lui è Cagliostro di Saramai Omai, Junior Winner. Cosa manca? Manca. L'allevatrice è mia moglie Silvia Canelli, io sono consorte angelo-mana. Complimenti. Al quarto posto... Scusate, al secondo posto il gatto numero 207, il Singapura. Non parlante, oggi riparli. Lui è Mediterraneo Winner 2018, che è In-Cation Pan Circus, Junior Winner DSM. E tu sei? Busetto Elisa. Complimenti ad Elisa e a tutta la famiglia Busetto. Primo classificato, il gatto finto. Buonasera a tutti, lui è Titano Zafferi Blu e io sono Rossella Mercadante e vengo da Padova. Complimenti a Rossella e a Titano, prima classificata, i migliori 5 neutri di questa esposizione. Grazie mille a tutti quanti voi per essere stati con noi. Ringraziamo Gianfranco Mantovani, che è stato qui con noi nel fine settimana. Grazie mille Gianfranco, buon rientro a casa. Roberto porta tanta pazienza. Passiamo ai cuccioli e chiamiamo il gatto numero 206, un Kurilian Bobtail, il gatto numero 143, il Neva, gatto numero 211, il Devon, gratto numero 33, il Sacro di Birmania e il gatto numero 89, il Maine Coon. Al quarto posto, il quinto posto scusate, il gatto numero 211, il Devon Rex. Salve, sono Cristiana Marangoni, dell'allevamento degli Elfi, vengo da Trieste e la gattina si chiama Enigma degli Elfi. Complimenti a Cristiana, complimenti anche a Enigma. Applaudiamo questi gatti perché sono comunque i 5 migliori cuccioli di questa esposizione. Al quarto posto, il gatto numero 89, il Maine Coon. Ciao a tutti, io sono Claudio Barletta, dell'allevamento Club Agoon. E lui si chiama Electric Shock 220 Volt. Siamo appena tornati dalla mondiale ed è un war winner. Complimenti, complimenti sia per il titolo della mondiale sia per questo ottimo risultato oggi. Al terzo posto, il gatto numero 143, il Neva. L'altro gatto finto di questa mostra, lui è Evaristo Silvestro, io sono Massimo, mia moglie Alessandra è l'allevatrice. Povera donna, povera donna. Dicono che ho dettato la moda del consorte, consorte, o viene lei o vengo io sul palco, e sei simpaticissimo. A me non devi dire niente, non rivolgermi la parola, sto scherzando. Complimenti, secondo classificato, abbiamo... Madonna, sempre insieme state voi due. Non se ne può più sto fine settimana, basta. Le segretarie, due gatti attaccati dove non vi dico. Chi vuole vincere? Non mi distrarre. Allora, al primo posto, il gatto senza coda, il gatto numero 206, il Curilian Bobtail. Al secondo posto, il gatto numero 33, il Sacro di Birmania, Blu. Facciamo le presentazioni... Ma sei scema, davvero? No, qua siamo alla follia. Allora, presentiamo prima il Sacro di Birmania. Rossella Mercadante con un pezzo di dente in meno. Tutti i soldi che ho speso dal dentino. Io ero pieno, vai. Lei si chiama Elodie Zaffri Blu, io sono Rossella Mercadante, vengo da Paolo. Basta, abbiamo finito, prendi i premi. Poi la psicolabile, Diana Di Natale, dell'allevamento Sacro e Profano, con Diego Norbedo. Devi solo presentare lui. Ma io me lo ricordo, si chiama Eclipse del Sacro e Profano. Casa Eclipse. Ok, prendi un po' di litio stasera, mi raccomando. Prima classificata, complimenti, facciamo un applauso a questi due bei cuccioli. Grazie mille. Quando ne volete andare. E chiamiamo a questo punto gli adulti. Non stanno bene, ma non stanno proprio bene. Un'altra volta qua state. Devo fare il best degli adulti? Nasconditi dietro al tavolino, va? Chiamiamo gli adulti. Il gatto numero 190 è il British Blue, il gatto numero 92 è il Maine Coon, il gatto numero 12 è la Persiana Torti, il gatto numero 167 è il Norvegese e il gatto numero 216 è il Blue di Russia. Allora, al quinto posto, il gatto numero 190 è il British Blue. Allora, dunque, lei è Brittany della dinanzia romana, è il Junior Winner, è il Grand International Champion, è il VWM, oggi diventa DSM ed è il Mediterraneo Winner 2019. Brittany ha vinto un sacco, ha un sacco di titoli e devo dire che questa gatta è una delle mie preferite. Brava Brittany, brava Brittany, complimenti a Francesca, quinta classificata. Al quarto posto il gatto numero 167, il Norvegese, stavolta faccio parlare la consorte. Ciao, io sono Serena, lui è Nimue Don Juan Matus, è di proprietà dell'allevamento Nimue di Cristiano e Michela Berlotte, io sono Serena e vengo da Rovereto in provincia di Trento. Complimenti ad entrambi, quarto classificato, al terzo posto il gatto numero 216, il Blue di Russia. Lei è Blue Target Dancing in the Storm, Junior Winner, io sono il suo proprietario, sono Salsi Riccardo dell'allevamento Silver Gloss di Firenze. Complimenti a Riccardo, poi ci sono rimasti il Mencun e il Persiano. Chi sarà il vincitore? Il primo classificato è il gatto numero 92, la femmina di Mencun, mentre al secondo posto la persiana Torti. Tu ci hai preso gusto a parlare oramai, io lo sapevo. Dai, presentiamo tutto. Lei è super in champion, non ti guardo l'occhio di Ro. Non si è sentito niente, ridi tutto con la voce più alta. Lei è super in champion, non ti guardo l'occhio di Ro. Meglio, complimenti, secondi classificati con la persiana e primo classificato, il miglior gatto, in questo caso la miglior gatta della seconda giornata espositiva di Ravenna, che vince tutti i premi del comitato, la medaglia d'oro della FIFA e la coccarda che prima o poi arriveranno. Facciamo le presentazioni. Allora, lei è su Prime Champions, vittori con Barbara Streisand, junior winner, DVM. Io sono Roberto, dell'allevamento Big Hawk di Vrea. Complimenti a Roberto, complimenti a questa splendida gatta. Facciamole un applauso perché è la miglior gatta di questa giornata espositiva. Poi piano piano ti facciamo la colletta di tutti i premi che sono in giro. Io ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi oggi, ringrazio gli allevatori per aver partecipato così numerosi a queste edizioni dell'Expo di Ravenna e ringrazio nuovamente tutti i nostri giudici Luigi Comorio, Eric Reyers, Marina Vinkel, Thea Friscovic, Cristina Rauzio, Gianfranco Mantovani, Rui Paceco e Mario Tino. Grazie mille a tutti voi e buona serata. Edoardo Iori per favore al palco. Edoardo Iori per favore al palco. Grazie.